Ciao, questo è un video sui miei autoregali, c'è anche qualche regalo che mi sono fatta per il compleanno parto da un ordine che ho fatto da Sephora da Sephora io ho potuto approfittare di un 20% di sconto e ringrazio chi mi ha dato la possibilità di farlo e ho fatto un ordine, ho preso la maschera, questa qui per il contorno occhi al melograno che volevo provare perché con quella viso mi sono trovata molto bene quindi ho voluto provare anche questa, viene 3€ mi sembra e ho usufruito dello sconto del 20% e l'altra cosa che ho preso perché come dice la Simon alla latta non si può resistere è la Naturalize di Too Faced, questa la volevo da tempo e ho approfittato del 20% e me la sono regalata per il compleanno i colori sono questi qui, ma ormai l'avete visto in tutte le salse la sto usando veramente tanto è una palette comunque con tutti i colori ben pigmentati sono tutti sfumabili sono veramente belli si possono fare sia dei look più naturali come si chiama la palette ma anche comunque trucchi più forti e mi piace veramente tanto con il 20% di sconto mi sembra di averla pagata sui 26€ 27€ insomma più o meno e nell'ordine potevo scegliere 3 campioncini io ho scelto il siero di Claren questa qui, la della Glam Glow Super Mud Clearing Treatment questa qui e un blush di Sephora che arriva così in questa confezione tipo sottovuoto che voi alzate la pellicolina e lo potete utilizzare poi l'altro regalo che mi sono fatta è un rossetto della pupa dei nuovi usciti io l'ho regalato a Francesca questo Sissi & French era veramente un bellissimo colore ma ormai avevo detto che io l'avrei regalato ce n'era rimasto solo uno e l'ho regalato a lei poi sono stata in un outlet l'ho trovato e quindi me lo sono preso ed è il numero 413 è tra l'altro anche quello che indosso ed è veramente bellissimo è un fucsia sì, molto molto bello non so dire molto sulla durata perché l'ho utilizzato diciamo poche volte quindi non so ancora dire molto sulla durata però lo trovo scusate ma stavo cercando una cosa però lo trovo veramente molto confortevole come rossetto poi l'altro autoregalo che è forse quello più inaspettato da me ha aperto una nuova profumeria che si chiama Liss cioè questa qui e tiene sia a tutti i marchi ai cost e tiene anche Dolce Gabbana e Armani io sono entrata ho guardato un po' di cose e mi sono presa un Nice to Kill di Armani questo è il numero 9 è un colore molto naturale ma meraviglioso ed è questo qui ha una luce fantastica non so se vedete è bellissimo perché è veramente proprio luce pura questo qui e questo l'ho pagato 29 euro mi sembra ora aspetterò un po' ma probabilmente tornerò più avanti per riprendere quello nero con tutti i glitter che non so se sono sul rosso o sul fucsia ma è veramente bellissimo e in questa nuova profumeria mi hanno riempito di campioncini mi hanno dato tre campioncini di profumo questo questo qui e questo poi mi ha dato il Siero Anti-Age Global questo di Dior e mi ha dato due campioncini di BB Cream di Collistar questi qui ed eccola qui la BB Cream poi mi sembra che non ci fosse altro no come campioncini eccoli qui poi sono stata sono ritornata in questa profumeria questa mattina perché andrò tre giorni al mare ma veramente tre giorni dalla domenica al martedì perché io ormai le vacanze le ho prenotate ad ottobre e quindi per fare giusto tre giorni di mare andiamo via così e avevo bisogno dei solari perché quelli dello scorso anno comunque li ho finiti tutti che li ho utilizzati e io come solari uso sempre Australian Gold lo scorso anno avevo anche fatto un video magari se mi ricordo ve lo lascio da qualche parte sono dei solari che non sono economici però io solitamente mi sono sempre scottata con questi nonostante abbia utilizzato la protezione 50 la protezione 30 sono tornata sempre abbronzata e non mi sono mai scottata ho preso il dopo sole che è questo qui e io con questo solitamente ci faccio due anni perché sono sono 650 ml ed è questo qui ha un profumo fantastico di fresco proprio si sente l'aloe ha una profumazione fantastica e questo l'ho pagato 26 euro e 50 poi ho preso la protezione 10 che non è per me ed è anche il bronzer all'interno ed è questo qui ha la confezione spray e questo veniva 18 e 90 poi per me invece ho preso la protezione 30 perché ho ancora la 50 da finire dello scorso anno e la 50 la uso sul viso invece per le gambe ho preso la 30 cioè per le gambe per il corpo ho preso la 30 anche questa ha il bronzer all'interno ed è questa qui e anche questa veniva 18 e 90 sono tutti questi due sono tutti e due da 240 ml e in questa profumeria mi hanno di nuovo dato un sacco di campioncini ovvero mi ha dato il Lip Maximizer di Dior il gloss volumizzante un altro siero anti-age poi il siero detossinante rigenerante questo qui sempre di Dior poi mi ha dato diversi campioncini dell'Armani Maestro eccoli qui e ce n'è anche un altro e mi ha dato altri 4 campioncini di profumi è vero ho speso comunque 60 euro però da sempre con 60 euro non mi hanno mai niente quindi anzi mi va benissimo così l'ultima cosa sono stata da Tigotà e sempre per il discorso mare avevo bisogno di uno spray per i capelli non volevo riprendere l'olio di cocco perché poi so che non lo utilizzerei comunque molto e ho deciso di prendere questo della Collistar che era in offerta l'ho pagato sui 7 euro ed è Collistar speciale capelli al sole olio spray capelli protettivo rinforzante questo qui non l'ho mai provato e non so se qualcuna di voi l'ha provato mi faccia sapere e in più a 99 centesimi c'erano le salviettine queste della sensure quelle antisale venivano a 99 centesimi ne ho prese due confezioni sì l'ultima cosa che vi volevo far vedere di quello che mi sono comprata io al CAD io ho la tessera e non mi ricordo come si accumulano i punti se ogni tot euro non mi ricordo di preciso e dello scorso anno avevo 70 punti quindi entro il 30 giugno dovevo richiedere il premio e io ho scelto i pennelli della L'Oreal e sono questo qui che è morbidissimo ancora non li ho lavati perché li ho ritirati ieri sera proprio poi quest'altro qui che è angolato e anche questo è veramente morbidissimo e questi due occhi questo da sfumatura e quest'altro l'unica cosa che posso dire è che sono abbastanza pesanti quelli viso devo dire sono veramente pesanti poi sì quello che ho acquistato io no non è finito è una cavolata perché un altro regalo che mi sono fatta è un profumo di umica l'ho ordinato da Christelle quando siamo state a Torino la Simon ci aveva fatto sentire Chance di Chanel Chance o Tundra spero di averlo detto bene e Christelle ci ha fatto annusare diciamo il dupe e è praticamente identico quindi mi sono fatta mi sono ordinata questo e questa è la confezione da 50 ml è veramente uguale devo dire che resiste comunque tutto il giorno e la confezione da 50 mi sembra viene 23 euro non vorrei dire una cavolata però mi sembra viene 23 euro Christelle correggimi se mi sono sbagliata passando ai regali Astrid mi ha fatto avere un pacchettino e la ringrazio ancora nonostante l'ho già fatto e mi ha mandato l'ombretto di Collistar questo qui questo viola lilla molto bello ha l'applicatore fatto così e l'ombretto il colore è questo qui io l'ho già utilizzato e devo dire che trovo comodo l'applicatore ed è comunque veramente un bel colore poi mi ha mandato due matite occhi waterproof di Euphidra e sono aspettate che le tiro fuori dalla scatolina che le avevo rimesse dentro e sono queste due qui questa argento che è veramente ora ve le faccio vedere ma sono veramente luminosissime queste per l'estate secondo me eccole qui sono dei colori veramente belli e posso dire che io ho provato la matita oro e sono realmente waterproof perché ce l'avevo diciamo nella rima interna dell'occhio sotto le ciglia inferiori ed ha resistito comunque tanto e a lungo in una giornata particolarmente calda poi un altro regalo che ho ricevuto ma già ve ne ho parlato questo in un video è la tinta di sephora il gloss no transfer che me lo ha regalato cristel è questa qui questo è il numero 15 non mi ricordo il nome mi si è staccato l'adesivo comunque qualcosa con il malva ed è questo colore qui ha l'applicatore fatto a gloss veramente comodissimo per applicare la tinta ed è questo colore qui molto molto bello questa tinta loro lo chiamano gloss no transfer ma è una tinta resiste a tutto a me mi resiste tranquillamente tutto il giorno non mi dà problemi è normale un pochino secca le labbra però non è di quelle che spariscono in malo modo che vi seccano le labbra che si segnano tutte secca un po' le labbra ma niente di così esagerato insomma poi Martina 91 Martina siccome io l'ho mandato dei prodotti da provare della Noa dei campioncini lei mi ha fatto diciamo un pensierino e mi ha mandato il gel detergente purificante all'argilla bianca di Lovea in questa confezione che non vedo l'ora di utilizzare poi mi ha mandato questo smaltino della Maybelline questo qui che è il numero 6 Bubblicious non lo so come si dice però è questo qui e adesso appena metto a posto tutto poi proverò poi mi ha mandato una maschera peel off della Montageness e aspettate ci sono dei campioncini all'interno e poi mi ha mandato in questo bottino la maschera all'argilla gialla di Lovea qui e qui c'è un pezzettino di sapone Copacabana di Lush e ringrazio ancora anche Martina perché sono tutte cose che veramente non vedo l'ora di provare vi dovrei aver fatto vedere tutto e ci vediamo al prossimo video ciao